Si sarebbe costituito spontaneamente presso la questura di Arezzo anche l'ultimo dei latitanti della baby gang famiglia Montana smantellata dalla polizia di stato di Arezzo che aveva portato a 10 arresti. Il GIP ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere. Il primo a finire in carcere, che adesso si trova ai domiciliari, era il capo della banda, il cantante trap che si faceva appunto chiamare Montana, come un noto personaggio di Scarface. Montana aveva messo in piedi una vera e propria banda di giovani e giovanissimi che nel 2021 aveva seminato il panico tra i ragazzini, almeno 15 gli episodi di cui si sono resi responsabili. Le accuse vanno dalla rapina all'aggressione per futili motivi, minacce aggravate con uso di armi, coltelli, tirapugni e colli di bottiglia. Nel frattempo è stata annullata la misura cautelare per uno dei nove ragazzi della banda. Era ristretto in una comunità e non in carcere perché la sua posizione è diversa e meno grave rispetto alle altre. Non gli è infatti contestata l'associazione a delinquere. È chiamato in causa per gli episodi del 6 novembre 2021, le sei rapine in serie tra la zona del Prato e del Duomo, ma gli elementi raccolti non sembrano schiaccianti o comunque tali da giustificarne la misura. Non ci sono gravi indizi di colpevolezza, lo ha stabilito l'altro ieri il Tribunale del Riesame, accogliendo il ricorso presentato dal giovane attraverso l'avvocato Tommaso Ceccarini. Il provvedimento che riduceva la libertà del ragazzo è stato quindi cancellato, resta ovviamente indagato, ma è tornato nella sua abitazione.